Per queste festività l'oratorio Oreb che cosa ha organizzato? Uno spettacolo, un musical fatto con i bambini e ragazzi, Bethlehem anno zero che ha voluto trattare il tema in modo particolare dei migranti e i ragazzi più grandi stanno preparando un musical, il tempo delle cattedrali da oggi all'avvenire, che ricalca la scia del tema dei migranti che è il tema che abbiamo trattato anche quest'anno nelle varie tematiche che abbiamo svolto all'oratorio. Un musical tratto dalla Notre Dame de Paris? Sì, un musical tratto liberamente dal celebre musical di Cocciante dove i nostri ragazzi hanno voluto dare spazio ai sentimenti che già nel 1482 esistevano, i clandestini in modo particolare che venivano scacciati in quell'epoca dalla chiesa cattedrale che doveva essere il Tempio di Dio, il Tempio dell'uomo e che in realtà metteva l'uomo all'esterno. Oggi vogliamo cambiare questa storia. Ti sei occupato tu invece della regia, diciamo così. È la tua prima esperienza? In realtà con l'oratorio abbiamo fatto anche altri musical, però questo dato che è tratto dal Notre Dame de Paris di Cocciante è stata un'esperienza difficile, perché ci siamo usciti proprio dalla nostra zona di comfort. abbiamo messo in gioco tutte le nostre abilità, tutte le nostre capacità e anche improvvisandoci quello che non siamo, pittori, ballerini. Devo dire che è stato difficile, però vedendo il risultato possiamo essere solo fieri di quello che abbiamo fatto, perché qualsiasi cosa, c'è qualsiasi risultato che avessimo ottenuto, sarebbe stato lo stesso un successo. Già solo il semplice fatto di pensare di farlo. E allora vogliamo invitare la gente a venire dove e quando? Al Palamoncada il 5 gennaio 2020 alle 20.30, ingresso gratuito.